ciao a tutti come state vabbè passare alla domanda successiva nulla volevo farvi un saluto e lasciarvi un piccolo compitino detto anche homework linguaggio scientifico corretto e prendo spunto da quello che sto facendo io in questi giorni oltre a ovviamente rallentare tutto ciò che è possibile rispetto alla cura della casa la cura della persona e anche goderci quelli che sono gli affetti più cari sto provando e cercando di trovare un lato positivo in queste giornate che sembrano trascorrere tutto nel medesimo tutte nel medesimo modo e vi dico che la mattina sto approfittando del sole che c'è sul mio balcone per leggere per far giocare i bimbi non in casa ma almeno sul balcone cercare di abbronzarci un po infatti sono abbronzatissimi si vede e cercare veramente di trovare un lato positivo ce la possiamo fare sperando che tutto questo possa finire a breve a brevissimo vi lascio un abbraccio forte forte ciao